Allora, l'omicidio di Ciro Marina, perché Antonella Lettieri è stata uccisa con quella crudeltà, con quella ferocia? Ecco, probabilmente si sapeva che quest'uomo aveva un trasporto, forse un'ossessione per questa donna, ma c'era tra di loro una relazione. Però c'era un rapporto di amicizia, nel senso che c'era un rapporto di amicizia anche con Caterina. Antonella si fidava molto. Però Caterina ultimamente si era molto allontanata da Antonella. Era la sera dell'omicidio, Caterina aveva provato a chiamare Antonella, perché dovevano fare una pizza quella sera, ci ricordiamo tutti, del racconto di Caterina. Cioè, secondo lei non c'era una storia, una relazione sentimentale tra i due? Sempre che sia vero cosa sia. Sempre che sia vero quello che dichiara lei. Magari il motivo di questo incontro non era una pizza insieme. Però la telefonata risulta agli altri, cioè lei ha provato comunque a telefonare poco prima delle 21. Ma il contenuto della telefonata può essere ben altro, insomma. No, ma Antonella non ha risposto, perché forse era già morta a quell'ora. Poco prima delle 21 Caterina tenta di chiamare Antonella e Antonella ovviamente non risponde. E tra l'altro Caterina non si pone il problema di andare a verificare il motivo per il quale Antonella non aveva risposto. Quindi questa è anche un'altra contraddizione, Cristina. Perché Antonella è comunque addetta delle sorelle, cioè scusi, Caterina addetta delle sorelle di Antonella era anche un po' invadente. Cioè entrava nella vita di Antonella in maniera, come dire... Senza, ma le rifaccio la domanda. Secondo lei non c'era una relazione sentimentale tra il marito di Caterina e Antonella? Beh, io non ho le prove di questo tipo di rapporto. Certo è che comunque le voci di Paese vanno in quella direzione. Ovvio è che a questo punto sarà indispensabile capire anche la corrispondenza. Certo, quello che risulterà dal telefono, dall'esame del telefono che stanno facendo. Quindi il contenuto dei messaggi, il contenuto delle telefonate, il movente di un delitto così crudele sarebbe più passionale che economico. Assolutamente sì, ma io credo che questo sia un vicino passionale. Che magari potrebbe essere anche insedito... Cioè, uno può avere un motivo passionale, ma nel contempo avere contratto comunque un debito con una persona a cui si sentiva legato affettivamente, magari da cui non si aspettava la richiesta indietro del denaro, ad esempio. Quindi sono tante le possibilità in un quadro anche, diciamo, astrettamente passionale. Sono pesanti le prove contro Salvatore Fuscagno? Beh, direi. Intanto c'è la prova della traccia del DNA, che è una traccia ematica non contaminata. Il che significa che all'interno dell'automobile di Salvatore Fuscagno è stata rinvenuta una traccia recente di sangue di Antonella. Della vittima. E quindi lui dovrà giustificare come mai quella traccia era nell'automobile. Lui ha già spiegato, in qualche modo, dicendo che lui la lasciava aperta la macchina, che la lasciava così a disposizione di chiunque. Però questo mi sembra anche inverosimile, Cristina. Quindi sai, sono tutte dichiarazioni che possono essere utilizzate contro di lui. Ora dobbiamo aspettare quello che sarà il risultato anche delle telecamere di videosorveglianza che, come dire, stanno attorno alle abitazioni sia di Salvatore Fuscagno e sia di Antonella. E poi sarà compito degli inquirenti, ecco, incrociare il tutto e capire qualcosa in più di questa tragica storia. Ad onore del vero Fuscagno ha risposto alle domande del GIP, ha sottolineato che quelle chiavi erano di Antonella perché lui aveva regalato un portachiavi ad Antonella, che appunto portano lo stesso stemma dell'associazione di caccia alla quale lui era associato. Però, Cristina, poi, ripeto, tutte quelle che saranno le valutazioni fatte dagli inquirenti alla fine di questa fase delle indagini saranno, come dire, quelle che poi porteranno ad un rinvio a giudizio per Salvatore Fuscaldo, porteranno ad un rinvio a giudizio per Caterina. Questo purtroppo ancora noi lo possiamo stabilire. Che gli inquirenti siano a buon punto, che, insomma, la verità su questo delitto davvero orribile di Antonella Lettieri, 42 anni, era la notte della festa della donna, l'8 marzo, possa essere vicino a una verità. Probabilmente lei sapeva di avere un appuntamento con lui. Probabilmente sì. Però può anche darsi che sia stato premeditato, perché quella era una serata particolare, c'era una serata in cui c'era un forte vento, pioveva, quindi magari avrà scelto la persona che ha ucciso Antonella, ecco, il momento adatto per poter agire anche indisturbato, perché si è parlato molto in queste settimane del fatto che nessuno abbia aiutato Antonella quella sera, che nessuno abbia soccorso. Sì, nessuno abbia sentito. In verità non credo sia stato così, Cristina, perché tutta la popolazione di Giro Marina si è stretta attorno alla famiglia di Antonella. Ha avuto una reazione molto forte dopo, durante l'arresto, addirittura un tentativo di linciaggio. Ha manifestato grande solidarietà, ha manifestato tutto il proprio dolore nei confronti di questa tragedia che non ha uguali nella storia della città, nel senso che a Ciro non si è mai verificato un omicidio così ferrato, un fatto così grave. E quindi io credo che con l'assassino di Antonella invece abbia proprio premeditato, sia addirittura entrato dentro casa di Antonella e abbia voluto e non si sa perché, perché è ovvio che tutto ruota attorno all'area delle ipotesi, perché se è stato Salvatore Fuscaldo, ovvio è che lui chiaramente aveva una sorta di movente passionale e che quindi forse un amore non corrisposto, però questo non lo possiamo dire con certezza. Però ripeto, è un omicidio secondo me premeditato che è stato proprio concepito con una brutalità inaudita, perché stando a quelle che sono le risultanze dell'autopsia, Cristina, credo che ci sia da fare questo tipo di ragionamento. C'è un orco che ha manifestato tutta la propria rabbia nei confronti di una donna che sicuramente non meritava di fare questa fine atroce. Sì, ma è proprio questo l'aspetto che ti dico mi fa...